Allora siamo dentro il Laconicum alle Terme alla Marina, il Laconicum è un ambiente dove i romani facevano i bagni di vapore, adesso lo vediamo in Drovina, però era un edificio a cupola con oculo centrale, c'era un ripiano, il pavimento rialzato dove scorreva il vapore, lì c'era il posto dove i schiavi lo producevano e usciva il vapore. Bene o male, adesso intervistiamo la nostra Filomena che è l'organizzatrice giusto di questa giornata di pulizia alla zona Capanne, quartiere Capanne, presentati per chi operi e per chi è stata fatta questa giornata. Buongiorno Paolo, grazie mille per questa opportunità, buongiorno a tutti i partecipanti, veramente vi ringrazio di cuore, è la prima azione che facciamo non con gli studenti, perché con gli studenti ne ho fatte diverse qui a Terracina, ma con dei cittadini comuni. Abbiamo scelto le Capanne non solo perché è il mio quartiere, ma perché è un quartiere simbolo della nostra città e l'abbiamo scelto perché oggi è la giornata mondiale della pulizia del pianeta attraverso gli eventi Let's Clean Up Europe, puliamo l'Europa e attraverso l'evento Clean Up Day, che sarebbe il giorno della pulizia appunto del pianeta, della terra. Abbiamo cercato di ripulire quel che abbiamo potuto, compreso questo spazio archeologico e desideriamo che la popolazione non sporchi più e che contribuisca a mantenere pulito sia questo luogo senza buttare più i sacchetti di rifiuti che abbiamo trovato in abbontanza. Che genere di rifiuti abbiamo trovato? Io ho trovato un sacco di sirinche, portafogli vuoti, immondizia, materazzi, cuscini, di tutte, gente che veniva a dormire nel preforum, un romano che vedete laggiù, abbiamo levato il materazzo. Però ci sono rimasti i pini che danno il nome alla strada, che se qualcuno li vuole è ottima legna d'ardine, sono caduti con il ciclone, anzi sono stati tagliati dal vigile fuoco dopo il post ciclone e sono rimasti qui. Qualcuno mi contatti, quindi io direi di presentare tutti i volontari, coloro che hanno dato il proprio tempo questa domenica. Sicuramente avevano molto da più, potevano stare benissime a casa, invece hanno dedicato il loro tempo alla città di Ranz. Allora, Filomena, te sei? Emilia. Emilia. Ornella. Io sono Ernesta Benzionata. Ernesta Benzionata. Romano. A piacere vita. Così, a Ragneto. Abbiamo lì il nostro fotografico, dico come te chiami? Roberto. Roberto, a posto così. Abbiamo finito. Ciao!